Io vedo che Max ha l'aureola dietro, non so se è naturale. E l'ha conquistata con un duro lavoro, negli anni. E ogni anno gli faccio testa, sempre gliela lascio, capito? Buon anno a tutti! Pensavo fosse uno scacchetto, io. Aspetta che questo la taglio, aspetta, aspetta che questo la taglio, ma quel dito lì sopra, davanti, che cos'è? Non riesco mica a tagliarlo. Infatti era un po' ambiguo in certi momenti. Allora, è il caso che la rifacciamo o no? No, vai tranquillo, Giovanni, non è un problema. C'era la bottiglia del crodino. Allora, scusami, non ci sono abituato io con tutto quel meccanismo. Aspetta, voglio capire qual è. Ah, è questo qui qua, boom. Prova a presentare. Adesso mai mi metto in mutande e te lo riballo in casa. A posto, Manuela, guarda qua. Io me ne vado. Amore. Così, ottimizziamo. Allora. Guardi a ballare tu, Spulci, vuole regge in palle? No, ma non riesci a appoggiarlo. Fammi vicino, fammi vicino. Ascolta, amore, non riesci a appoggiarlo da qualche parte. Che stoff tu ti lascerei c'è. No, ma dai, ma lo teniamo in mano. Oh, ma le longa lo teniamo in mano. Così mi fai vomitar. L'ho venduto, la gioia. Ah, volevo fare un commento al malo di Daniele. Ma l'hai visto? Certo che l'ho visto. Dove l'hai visto? Perché io non l'ho visto? Allora, aspetta che... Gli si sono appannati gli occhiali. Aspetta che... Io non l'ho visto, voglio vero anche io. Parlava Robbie Country con Monia, ma Loris stava per fare una domanda. Prego, Loris. Stavo facendo una domanda. L'ho frugato? Ho perso la memoria con il Covid. Sarà stato un po' di domanda. Guardiamo sulla Smart TV, che si vedono i brufoli. Quindi vedo a nanna i bimbi. Allora, visto che... Ciao Adriano! Ciao Adriano! Ridillo! Scusa un attimo. Non hai ancora capito che non devi parlare finché parlo a un altro? Buongiorno! 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 Ciao Adriano! Aspetta che finisca e poi lo saluti! L'ho fatto perché si è ripattinato e così lo rifà. Allora, ci siamo... Tra la mia età! Stai qui con me! Stai qui con me! Stai qui con me! No dai, è possibile! È più vecchio Alan! Ragazzi! No no, è del 61! Ci siamo infilati bene e che... Ma va là, te hai 18 anni, scusa, cosa vai dicendo? Anch'io, anch'io! Io 19! Ma no, ma tu ne hai 17, non eri più giovane di Loris, scusa, adesso c'hai di un anno! No, io non hanno io di Loris! Ferma, fermo Nati! Ti rifaccio la domanda del mangiare, cosa c'era sul tuo desco di Natale, va bene Robi? E devo tornare indietro e devo tornare indietro direi! E tu devi parlare che sei andato dalla tua mamma, che hai mangiato i capelletti eccetera, ma fermati e non parlare dei regali, che lo facciamo nella seconda tornata, va bene? Va bene, vai tranquillo! Ti fa schifo, lo sciò, mi ti tocca! Sono il più datato che ho in mezzo io! È di poco, dai, qualche mese! Rivato, eh! Daniele sembra Luigi 15! Ma il sole! Anche qualche chietto però gli manca! Luigi è un barbasticciotto, eh! Però scusami, Daniele è più bello però! Daniele è più bello! Sì, grazie, grazie, grazie! No, ma parlavo dei capelli, parlavo dei capelli! Allora, io dove balla Lori so solo il Texas Waltz al villaggio della Salute Più, lo tengo come l'oro! Lo guardo ogni giorno e ci accendo le candeline davanti! Anche perché è stato un colpo di fortuna, eh! È stato culo, è stato culo! Quando mi hai detto che c'era io? In vent'anni ci sarà capitato tre volte! Ma voi ridete sempre così! Quando fate quelle cose qua? No, facciamo molto peggio, Robby! Dopo ti manderò il backstage! Però perché io me le vado a vedere tutte, ridete come dei passi! No, ma tu... Ma devi sapere, Monia, che le cose belle le taglia, quelle dove veramente c'è da piaccio le taglia tutte! Però dopo... Sì, però non faccio i backstage dove... Che sono tutte da cartellino rosso! Fa bene a tagliare certe cose perché sai, non siamo mica normali! Alla fine te lo taggo, così lo vedi! Chi ci sta guardando e non ha mai trovato il country, devi venire a provare che è diviato tantissimo! Spermi, stanno sbaraccando in casa! Sono andando il campanello! È la carlocca! Sono venuti giù dei piatti! È successo la carlocca! Ma dove? È la pippi! È la carlocca! Hai sentito smarraccare i piatti? No, ma va bene! Siete ancora col cennone di Capodanno! Adesso io qui vado con la Ketty e la Ketty mi dice il suo ballo, va bene? Scusate, ho il potechino nascosto nella manica che mi esce! Il mappetto è ciò! Il mappetto è ciò! Allora... Ah, sei bloccata? Non so cosa mi stai chiedendo! Ah, 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 ho sentito solo mutande e basta! Allora, mi stavo chiedendo... È l'imunità al pieno! Davi! Mi preferisco senza corna! Così sembra... Dimmi, Monia! La famosa alce della Finlandia! Aiosa! Aiosa, sì! Ascolta, allora Robby, hai qualche altra musica da propormi? No, fallo fare a Loris che così sentiamo anche gli ultimi va bene, va bene Scusa Ketty, lo devi rifare, ti chiedo scusa Aspetta che mi rivesto Ah, oh donna, scusa Daniele Niente, niente Siamo tutti cotti A me fa piacere, ogni tanto è un'emozione Oddio Non so come stanno adesso, non mi vedo Ah, sei bello come prima Come si dice in Romagna C'è una cosa meravigliosa